Musica Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse Allora, ragazzioli, finalmente Scusate se rimango purtroppo dei giorni senza fare registrazioni o live Adesso la live è un po' di tempo che non la faccio Vi faccio vedere un po' di cosucce che ho fatto Ho fatto questa cosa, guardate Mi sono portato un po' avanti, guardate qua Come si vede bene Queste sono piattaforme per l'atterraggio dei veicoli Guardate, dall'alto guardate come si vedono Vedete? È una figata assurda È una figata assurda E di là lo stesso le faremo Un po' più piccole verranno, però che se ne frega Allora, ragazzi, oggi cosa facciamo? Io stavo spianando qua, ma lasciamo così Lasciamo così perché non mi può interessare Allora, una cosa che io volevo fare È questa, ragazzi, oggi Allora, andiamo un attimo qua E vi faccio vedere la sorpresina Ho trovato Ho trovato Ho trovato la torre Che è adatta È una torre Fatta di blocchi Che abbiamo già Allora, intanto io devo fare questo, però Mettere lì Questa roba qua Perché ho provato Ragazzi A mettere Cioè a mettere A fare Per quanto riguarda Ho provato Ho provato a fare, ragazzi Una barca A vela A remi Però Purtroppo Non ci sono riuscito Non peraltro Perché Non sono Dicevo Non sono riuscito A Cioè l'ho fatta L'ho costruita È tutto Però ragazzi Non funziona Non riesco a capire Che cacchio Gli ha preso È boh Non ho capito Perché Non mi funziona Purtroppo Devo guardare Non so Cosa Cos'altro posso fare Cioè Davvero Non lo so Quindi Devo Devo provare Oltretutto Sto provando A mettere a posto L'acqua L'adavanti Ma non ci sto riuscendo Quindi ho capito Non ho capito Se devo toglierla tutta L'acqua Per rimetterla O non lo so Adesso Proverò Anche quello Vediamo un attimino Devo ancora Ci accrodare Anche ragazzi Allora Adesso ci siamo Abbiamo da mettere Io ho già preparato Tutti i materiali Che ci servono Ok Ho preparato Tutti i materiali Che a noi servono Vi faccio vedere Questa cosa Sicuramente Vi velocizzerò Un pezzo Perché Sarà un po' Inghetta Come cosa Allora Allora Intanto Dobbiamo Mettere La mettiamo qua Girata in questa maniera Perché Io spero che Venga tutto bene Perché ragazzi Allora L'entrata ce l'abbiamo Di qua Vedete Ecco Però non ho preso Non ho preso La stone Che poi noi Andremo a cambiare Dopo Ok Allora Adesso Andiamo qua Vi faccio vedere Questa E sono tutti i materiali Che a noi servono Ok Vi faccio vedere Allora Possiamo Mettere Building Jet Building E Out Building Se abbiamo Questi cubetti qua E Crea Cioè Di comprare Il materiale Automaticamente A noi ragazzi Sono materiali Abbastanza facili Da fare Quindi Io direi Vando le ciance E iniziamo Allora Vi faccio vedere Vedete Incomincia a mettervi Questa Vi mette I blocchi Lui Poi Andiamo Su Qua Avete visto E ha messo Vi sta mettendo Tutti i blocchi Vedete Andiamo qua E Andiamo a mettere Questi qua Perfetto 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 Grazie a tutti. 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 Possiamo provare a tornare giù. Allora, come potete vedere purtroppo mancano delle luci. Ehm... Lì c'è qualcosa che è nuova. Andiamo a vedere. Ma le luci le mettiamo, non vi preoccupate. Allora... Ok, qua ci siamo... Così? Così... Vediamo un attimino se mancano, ad esempio... Ehm... 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 Perfetto. 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 Io, quello che volevo fare, ragazzi... Ehm... 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 dove è la stone, la stone, ok, bene, allora, togli, merda, gnappa, ok, perfetto, allora, adesso, ragazzi, possiamo togliere, secondo me, queste cose qua, ok, e mettere questi, ok, grazie a tutti, 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 grazie a a vedere adesso su, nelle varie stanze, come potete vedere, sono tutte stanze piccole di controllo, ok, andiamo su, qua c'è un'altra stanza ma non c'è nulla, ok, e qui andiamo sopra, ecco, per fare un'altra bella cosuccia ragazzi, vedete? Da qua purtroppo non si vedono, si vede solo sto pezzo qua, un po' di immaginazione, mettiamo un po' di immaginazione ragazzi, e mettiamo un teletrasporto, magari possiamo, 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 vabbè metterlo possiamo anche metterlo qua, togliere magari questa che non ci serve, mettere il nostro teletrasporto, qua, proprio in un angolo, perché davanti non ci sta, perché poi volendo ragazzi possiamo, si potrebbe allargare, non è un grosso problema, ok, altrimenti ragazzi possiamo metterlo qua, perché se no, fatemi vedere, se riesco a salire qua, si, con la scala, merda, con la scala così, una porta puttana, ma allora, ma se sono sceso prima, oh là, bene, è un po' un problema andare su giù, però per la nostra torre di controllo può anche andare bene, possiamo, guardate, possiamo fare una cosa, metterlo qua, ma allora, c'è qualcosa non qua, porco di quel cane bastardo, andiamo qua, prendiamo i nostri teletrasporti, tanto ma noi non ci siamo nient'altro, mettiamo il nostro teletrasporto, lo mettiamo qua, qua, no, ho sbagliato tutto in pieno, così, e mettiamo qui, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', possiamo mettere questo, per la torre, uno e uno due, li abbiamo messo, per la torre, perfetto, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, no, però, però voglio fare un'altra cosa, allora, tiralo via, perché qua, secondo me ragazzi, è un po' una porcata, perché o facciamo le cose come si devono fare, o non le facciamo, allora, andiamo qua, e facciamo, mettiamolo, 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 lì, ma se noi lo mettiamo girato così, guardate, secondo me va bene, e li mettiamo sempre i soliti, uno, e uno, due, e voilà, adesso, dobbiamo andare giù, perché se no non funziona, ok, e qui ci siamo, e mettiamo un teletrasporto qui, ok, per la torre di controllo, facciamo così, e facciamo uno, e uno, due, ragazzi, e qua ci siamo, andiamo dentro, tac, siamo la torre di controllo, e quando dobbiamo uscire, tac, e siamo usciti, perfetto, io direi che così ci siamo, le scale le lasciamo per bellezza, non è un grosso problema, per quanto riguarda le altre stanze, non ci servono, ma ci può servire questa qua, vedetta, mettiamo vedetta, ok, e mettiamo un, cosa qua, mettiamo magari due scale, una, no, mettiamo gli oblò, che facciamo la vedetta, ok, e andiamo giù, oh, sempre, si deve cliccare, e mettiamo qua la l'altro, e facciamo la vedetta, così, tac, e tac, perfetto, e automaticamente qua abbiamo la torretta di vedetta, vedete, si vede praticamente tutto, anche qua, le varie piattaforme, qua davanti faremo un altro, un altro pezzo dove atterreranno, e qua si vedono tutte le piazzole, ok, e qui si vede chi entra, ok, perfetto, secondo me va benone, perfetto, andiamo giù, ok, e possiamo uscire, si esce, e si chiude, ragazzi, abbiamo finito la nostra torre di vedetta, eccola qua, torre di controllo, io direi che così va bene, qua c'è il nostro atterraggio, per quanto riguarda i mezzi, faremo un atterraggio anche qua, ok, oppure no, adesso vediamo, magari un attimino, perché, no, qua, bisognerebbe chiudere, però lì, non è che sia tanto uguale a quella roba lì, va bene, possiamo benissimo magari chiudere qua, e fare una, altre due piccole piattaforme, io direi di sì, così, ok, perfetto, mettiamo questi qua, vedete, ok, allora, io direi, ragazzi, che qua, questo spazio qua, lo utilizzeremo peraltro, ok, perché qua giù io voglio fare un tipo un magazzino, una sorta di magazzino entrata con i mezzi, per entrare e uscire, per caricare dei vari astronavi, mezzi volanti, ok, quindi io direi che quasi quasi questo spazio lo lasciamo così, qua lasciamo spazio così e così per parcheggiare i vari mezzi che arrivano, e qua faremo altre tre piattaforme d'atterraggio, solo sei piattaforme d'atterraggio, ragazzi, secondo me andiamo da dio, andiamo benone, quindi possiamo, possiamo anche fare una cosa, fatemi vedere se posso fare una cosa, allora, mettiamo, aspettate, ma se io facessi così, io la posso collegare, aspettate, perché se io posso collegare quel, ragazzi proviamo, no, devo, qua, dove, eccolo, perfetto, allora, vediamo un attimino se io posso collegare queste luci a questo, esatto, una, 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 quello, ecco qua, posso farlo, se sì, perfetto, allora ragazzi, ci siamo, ci siamo, la cosa che stavo facendo è questa, voi non immaginate le balle che mi crollano, perché devo fare una cosa così, guardate, uno per volta, metterlo qua, collegare la corrente, avete visto, quindi spengo, clicco per la corrente, trasporto la corrente qua e clicco qua, ragazzi, ce l'ho fatta, ok, le ho dovuti passare, sono tanti, guardate i cavi che ci sono, ce n'è un'infinità, ok, allora, togliamoci questo e guardiamo se funziona il tutto, tan, avete visto, si è accesa, là in fondo, la H e tan si spegne, ok, ecco, si spegne, ma io devo uccidere il pezzo, pezzo di pistolino qua, ok, perfetto, bravo pistolino, ok, andrò a fare altre planche, quindi ce ne serviranno ancora due qua, quindi ne metterò ancora una e una due, giusto, una e una due, per mettere, accendere, accendere e spegnere queste qua, e ne metterò due, cioè ne metterò tre da questa parte qua, ok, fatemi vedere solo, ho fatto una cagata, no, 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 giusto, 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 perfetto, bene, io direi che così, ragazzi, qua, siamo praticamente a posto, allora, io, ragazzi, qua, vi saluto, intanto che vi saluto, ragazzi, pass, accendiamo, perfetto, e ragazzi, abbiamo una base futuristica, per il momento è così, faremo un'altra bella cosa, perché poi io qua sotto voglio fare i laboratori, eccetera, eccetera, spianero qua, spianero qua, visto che ho già quasi iniziato, ma ho tutto pieno, quindi andrò a votare tutta la roba che è dentro questa cassa, perché poi, ragazzi, di qua voglio fare un magazzino, ok, ma non qui, non lo farò qua, perché questa sarà una base dove io metterò poi delle cose, ok, ragazzi, io non so che cacchio devo fare per mettere un quadro, io credo che ci vorrà tanta acqua ancora, andrò a prendere qualche stack di acqua e proveremo, proveremo, proveremo ad aggiustare, dopodiché aprirò la, altrimenti, ragazzi, chiuderò, e va a far culo, chiudo, e vediamo qua cosa possiamo fare, ok, ragazzi, io vi saluto, come sempre, un grosso bacio, un grosso braccio da vivo libero, mi raccomando, ragazzi, condividete tanti bei like, ok, e aiutatemi a portare avanti questo canale, ok, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay.